Allora, prima di tutto un consiglio, che è questo. Dall'iPad, per creare una pagina internet che rappresenta una fotostory, utilizzate questa applicazione Spark Page. Vi ho dato l'indicazione già nei compiti, anche nelle cose, quindi Spark Page. Che fa sempre parte delle applicazioni dell'Adobe Creative, come si chiama, Express, Adobe Express. Da internet, da internet invece usiamo Adobe Express, poi vi faccio vedere in che modo. Allora, come strutturiamo questa parte? Viene strutturata in questo modo. Io prima vi mostro che cos'è una foto web story, quindi non una fotostory, ma una foto web story, cioè una storia fotografica che può essere rappresentata attraverso una landing page. Che cos'è una landing page? Una landing page è una pagina a scorrimento, una pagina web a scorrimento. Naturalmente per costruire questa storia usiamo gli stessi criteri che abbiamo adottato per tutto il corso. Sono criteri di bellezza, con colori bellezza, con accostamento anche casuale. Ecco che procediamo, quindi con il vedere intanto una storia. E qui avete il link, quindi creare e pubblicare foto web story. È una narrazione di ispirazione che ho creato apposta per mostrarvi come può essere strutturato un risultato di questo genere. Dove trovate il link? Il link lo trovate nei lavori del corso, naturalmente, è l'ultimo che ho inserito. Si chiama Alberto Piano, non ha inserito il nome del prodotto, ma il mio. Quindi qui c'è il link. Lo potete seguire anche contemporaneamente a me, facendo clic su questo link e scorrendo poi la pagina. Allora, vediamo subito che si tratta di una pagina a scorrimento. Quindi guardate che la faccio scorrere, vedete? Scorrere, scorre, 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 scorre. Perfetto. Adesso torniamo all'inizio. Vediamo che qui c'è un'immagine di sfondo e qua un titolo. E poi anche l'autore. Quindi è come se fosse una copertina. Abbiamo scoperto che questa pagina web, quindi, ha una specie di copertina. Naturalmente poi vi insegno a crearla. Crearla è molto semplice perché attraverso il sistema di Adobe Express, che abbiamo già utilizzato due volte per creare la grafica delle strisce dei post e per creare l'istante video. Vedrete che vi ci ritroverete immediatamente. Quindi io vi darò più che altro dei suggerimenti su come procedere. Chi non volesse utilizzare questa applicazione o non potesse, può utilizzare Google Site. Google Site è a disposizione di chiunque abbia un account di Google. Ha certo, non ha tutte le funzionalità e la bellezza di questa applicazione, però insomma un risultato lo ottiene. Allora partiamo. Qui abbiamo un'immagine di sfondo, il titolo, creare e pubblicare foto web e storie. Il vostro titolo potrebbe essere qualcosa che riguarda la vostra passione, quello che volete voi. Allora, prima di tutto dobbiamo lasciarci ispirare. Ispirare che cosa vuol dire? Vuol dire osservare le storie fotografiche pubblicate da altri. È importante questo. Dove trovate queste storie fotografiche? Beh, le trovate in Adobe Express, perché quando cercate modelli popolari, eccetera, e cercate modelli di pagine web, quindi voi qui trovate tante storie fotografiche che hanno diverse modalità per essere viste. Queste sono delle immagini di copertine di alcune delle storie fotografiche che voi trovate all'interno dell'applicazione. Quindi è importante, quando si lavora con la creatività e la bellezza, farsi ispirare. Non esiste una creatività che parte da zero, cade dall'alto e arriva così, sulla pagina bianca. Quindi prendete spunto. E infatti questo lavoro che ho preparato serve proprio per aiutarvi a ispirarvi. Poi date un'occhiata alle inquadrature e ai racconti, cioè che cosa viene inquadrato, come l'immagine viene presentata e come viene raccontata. In parte queste cose ve le ho spiegate prima con il modello di Keynote, però qui hanno un'altra disposizione, perché il modello di Keynote è una sorta di libro che pagina dopo pagina sfogli. Qui invece abbiamo uno sviluppo orizzontale, scusate, verticale della pagina. Quindi anche le disposizioni grafiche e i testi, le narrazioni sono diverse. Questi sono sempre degli esempi presi da Adobe Express. Partiamo anche dal presupposto di scegliere immagini casualmente. Per esempio, io sono partito proprio da un'immagine casuale, un'immagine che pone domande. Per esempio, questa è una buona immagine. Perché è una buona immagine? Non tanto per la fotografia, non è una gran foto, però è interessante l'inquadratura. È una grande inquadratura. Perché? Perché questa signora, vestita, sta andando da sola verso il mare. Che cosa andrà a fare da sola vestita verso il mare? Noi abbiamo una foto che ci pone una questione. E le immagini che ci pongono delle domande esigono delle risposte. E quindi ci avvantaggiano nella costruzione di una storia. Anche se le immagini non sono perfette, molto belle, ben definite, contrastate. È una buona immagine, però a me piacciono fotografie di un altro genere. Non importa perché in questo caso l'inquadratura è misteriosa. C'è un mistero. E vedete che un'immagine non racconta, non dice niente. Dice solo che questa donna sta camminando verso il mare. Non possiamo dire nient'altro. Piange, sorride, ride, pensa, ha un telefonino in mano, vuole andare al mare per gettare il telefonino alle ortiche. Non lo so. No, le ortiche nel mare non ci sono, diciamo così, per gettare a mare il telefonino. Non lo sappiamo. Però scegliamo adesso un'immagine, una fotografia, solo ed esclusivamente per la sua bellezza. Cioè noi non ci chiediamo niente su questa storia. Cominciamo ad accostare un'altra fotografia. Anzi, facciamo così, no, giustamente. Rifacciamo questa presentazione perché è la donna misteriosa e quindi applichiamo una tecnica di rappresentazione fotografica che poi ritroveremo all'interno dell'applicazione che useremo. Quindi non la presentiamo così di botto, proprio perché c'è un mistero. Guardate cosa facciamo. La rifacciamo. La facciamo comparire un po' per volta. Guardate così. Prima questa striscia di sabbia. Poi le gambe a dire che sta camminando. Poi la parte superiore. Poi l'immagine è tutta intera. Quando abbiamo una fotografia che esprime una sorta di incognita, di mistero, di tema da risolvere, non proponiamola tutta insieme, possiamo farlo attraverso questo sistema, facendo comparire delle parti di questa fotografia. Fino a che poi il lettore la vede lo spettatore la vede nella sua intierezza. Seguiamo la bellezza adesso, quello che vi dicevo prima. Qui abbiamo seguito che cosa? La suspense. Abbiamo seguito il mistero. Non abbiamo voluto svelare tutto subito. Ma adesso lo spettatore qualcosa si domanda. Ma dove va questa persona? Allora scegliamo un'altra fotografia che non c'entra niente, nel senso che noi ci riferiamo magari all'ambiente, ma la scegliamo per la sua estetica. Quindi, per esempio, io ho scelto questa. Che non ci dice ancora niente su quello che fa questa signora, ma è questa indiscutibilmente una bella fotografia, con dei bei colori, un paesaggio straordinario, una visione grandangolare. L'ambiente, però, potrebbe avere, anzi, deve avere un'altra fotografia che si associ, sempre scelta, sul criterio della bellezza. Allora io ho trovato questa. Questa mi è piaciuta molto. Mi piace questa. Mi piace la foto, mi piace l'ambiente, mi piace il piccolo balenottero con la mamma balena, si suppone. Non c'è un cartellino con scritto mamma e figlia, ma comunque mi sembra evidente che l'interpretazione possa essere questa. Mi piace questa scia, mi è piaciuta. Adesso cosa facciamo? Rifacciamo, perché abbiamo tre fotografie. Abbiamo questa, abbiamo scelto questa, abbiamo scelto questa. Possiamo cominciare a raccontare una storia. Vediamo cosa salta fuori. Allora riprendiamo tutto in un altro modo. Quindi la storia parte da adesso. Vediamo cosa succede. Wow. Questa sabbia. Sabbia calda e seducente. Aggiungiamo dei brevi testi narrativi. Sabbia calda e seducente. Wow. Poi si scoprono le gambe, poi la persona, nella sua interezza, andare verso l'ignoto. Wow. Come la corsa di Marta. Marta corre verso l'ignoto. E dove corre? Ecco, l'ambiente in cui si trova. Bellissimo. Che effetto. Questo accostamento di immagini, determinato solo dalla loro bellezza, come i movimenti dei cetacei. Quindi abbiamo paragonato e creato un rapporto tra la corsa di Marta. Importante è nominare le persone. Non questa donna, ma Marta. Allo spettatore piace la contestualizzazione. Non troppa, perché vogliamo essere un po' misteriosi, ma Marta è il suo nome. E accostiamo la corsa di Marta al viaggio di queste balene. Poi, che cosa facciamo? Boh, non lo so. A me è venuto in mente un ricordo. Io ho cercato delle foto belle. Qualsiasi. Questa. Pesca, no? Ci sono dei pesci, c'è il mare. Pesca. Forse ricorda esperienze di pesca di alto mare, persone che hai incontrato, momenti romantici. Ho trovato questa bella foto in bianco e nero. Anche quest'altra. Che hanno a che fare col mare. Stabiliamo un collegamento. Magari. La solitudine. Ho trovato questa bella foto. Magari Marta. Marta che si sente sola. Non lo so. Poi lo stupore. Bellissimo questo. Questo è un acrobate della pesca. Incredibile. Fantastico. Allora abbiamo trovato questa, che mi piace molto. Questa anche mi piace, perché mi richiama Marta. Non so, anche la sua solitudine sulla spiaggia. queste mi piacciono molto, anche. Notate che non sono la stessa persona. Questa non è la stessa persona, non è la stessa persona, non è la stessa persona e non è neanche la stessa persona. Ma non importa, perché lo spettatore non se ne accorge. Lo spettatore guarda la storia, non va a vedere questi dettagli. Questi dettagli li vedono gli esperti, che poi decodificano il messaggio, ma non lo spettatore. Quindi ricordatevi di questo. Allora cosa facciamo? Oh, continuiamo, rifacciamo. Partiamo da qua. Iniziamo non più da questa immagine qua così, ma le mettiamo insieme, cioè in questo modo. Queste tre. Quindi abbiamo, l'ultima era quella dei pesci, come si chiama, delle balene che viaggiavano. Poi ci sono queste tre immagini quasi piccole in alto, quasi a determinare un ricordo e poi sotto lei, che pensa magari. E poi il viaggio, le persone, la pesca, il matrimonio e poi questa, perché questo è veramente lo stupore. Questa è proprio la bellezza dello stupore, è l'incognita, è l'equivalente della fotografia dei due balenotteri. C'è un equilibrio estetico incredibile. E ora quella acrobata che giocava sulle onde. E poi la storia continua, continuatela voi. Il racconto un po' per volte è stato riempito casualmente. Se vuoi sapere come andrà a finire, segui, ti farò leggere altre pagine, ma forse anche no, perché tanto. Vabbè, qui ci sono delle considerazioni sullo statuto semiottico della fotografia, poi le vedrete, eccetera. Però quello che conta è che abbiamo costruito l'inizio di una storia fotografica attraverso una landing page o scorrimento e gli effetti che questa landing page può creare, per esempio questi effetti a comparsa, scegliendo solo delle fotografie casuali determinate dalla bellezza che dalla loro bellezza e così dall'istinto che mi portava a scegliere queste fotografie e abbiamo creato una storia, la storia di Marta che in qualche modo ricorda, vedete, ricorda durante un viaggio, con un viaggio di queste due balene, cosa ricorda? Ecco qua, ricorda i momenti particolari e la bellezza di quello che è stato colto in questo viaggio. Va bene, è tutto chiaro fino a qui, vediamo come si costruisce, ci siete? Ci foste, ci sareste? Sì, ci siamo. Sì? Vi è piaciuto? Molto. Moltissimo. Bellissime anche le foto. Sì, non sono mie le foto, eh? Queste non sono mie, le abbiamo scelte da una banca dati di foto che Adobe Express ci mette a disposizione e che adesso io vi insegno anche a utilizzare, perché questo è un esercizio incredibile, bellissimo. Allora, qui abbiamo l'iPad, ve lo faccio vedere poi tramite l'iPad, ma adesso ci dedichiamo dieci minuti, alle 20 e 30 finiamo perché ci va proprio poco e poi vi mostro quello schema del documentario. Allora, che cosa facciamo? Usiamo Adobe Express per tramite internet, va bene? Poi vediamo un attimo. quindi quando siete dentro questo ambiente che ormai conoscete, tasto su più e cerchiamo dove si costruisce una pagina web. Eccola qua, pagina web. Basta, facile. Pagina web. Siamo arrivati. Aggiungi un titolo. Beh, è proprio da come si chiama? Scusami, mi sono già persa. Quindi se lo facciamo su iPad usiamo Spark Page? Sì. Ok, perfetto. Adesso ve lo faccio vedere. Spark Page è questo. No, no, stavo seguendo da Spark Page. Stavo provando. Quindi pagina web. Quando voi scegliete pagina web da questo punto in poi avete la stessa cosa. Qui scrivete il vostro titolo, va bene? È banale. Non sto neanche a farlo. Poi aggiungi il sottotitolo, va bene? Poi guardate il tasto più. Qui avete i tasti più. I tasti più li avete trovati in tutte le applicazioni Adobe Express che abbiamo usato, no? Quindi non c'è tanta spiegazione da fare. Qui però aggiungete la foto. Aggiungete proprio una foto che riempia. Poi naturalmente potete fare degli esperimenti, ma il mio suggerimento è di inserire proprio una foto. Come fate a inserire la foto? Vedete che si apre la possibilità di o caricare una vostra foto o di cercarla. quindi se cerchiamo non so per esempio qualcosa che ha a che fare col mare scegliete una foto gratuita non quelle con la coroncina che sono a pagamento e qui potete scegliere avete veramente una quantità incredibile ed ecco che avete lo sfondo. Lo sfondo, il titolo, poi il nome, il vostro nome e cognome è l'autore di questo lavoro. Poi una volta che avete creato la copertina quando fate clic o volete scendere lui automaticamente vi dice scorri per iniziare a scrivere la tua storia. Vedete che è proprio prova di scimmia, no? Ford, dammi come si dice. Quindi che cosa farete? Beh, prima di tutto un testo. Scrivete un piccolo testo di presentazione, una cosetta qua, qualsiasi, un testo. Poi il testo io non mi sto neanche a spiegare queste cose perché le vedete è come essere dentro un minimo di applicazioni di videoscrittura. Poi sotto avete di nuovo un più, quindi proseguite a scorrere verso il basso e col tasto più aggiungete. Che cosa aggiungete? Allora, questo ve lo voglio far vedere. Cioè, aggiungete per esempio una foto. Quindi scegliamo questa cosa di caricare la foto, quindi ne prendiamo un'altra. Bene. E adesso che abbiamo questa foto abbiamo anche però la possibilità di scegliere in che modo viene visualizzata. Vedete che così non va bene, non possiamo passare da un'immagine di copertina che prende tutto lo schermo a una così più piccola. No? Diamo ancora una sorta di continuità. Quindi, per esempio, facciamo così, facciamo la finestra. Ed ecco che a finestra, guardate cosa succede. L'immagine scorre, vedete che scorre? a finestra scorre e qui di fianco possiamo aggiungere una didascalia. Basta scrivere e abbiamo una didascalia. E ci ritroviamo esattamente nel racconto, guardate, vedete che l'immagine viene scoperta e qui c'è una didascalia. È uguale. Siamo esattamente qui. Viene scoperta e c'è una didascalia. vediamo altre possibilità. Video lo sconsiglio. Se creiamo una storia fotografica lasciate perdere il video. Vediamo un glide show che cos'è. Il glide show. Glide show dobbiamo aggiungere diciamo così tre o quattro foto. Una, due, tre e prendiamo anche questa. Questo è un glide show. possiamo stabilire la direzione delle immagini. Cioè nel senso di che cosa si vede prima e cosa si vede dopo. Proviamo a salvare ed ecco che cosa succede. Succede questo che scorriamo e poi abbiamo un'immagine che si sovrappone all'altra in dissolvenza. Guardate che effetto incredibile. molto bello. Un effetto bellissimo. Possono bastare anche due fotografie per non esagerare. Quindi non lo so questa la togliamo va bene questa la mettiamo all'inizio. Guardate che effetto creiamo perché abbiamo così opla vai poi opla così abbiamo il mare poi dentro e poi i pesci. Guardate l'effetto quindi siamo partiti da così qui si scrive qualcosa d'accordo e poi abbiamo il fondo marino poi in dissolvenza ecco che vengono fuori gli elementi di questo fondo marino e da qui di nuovo in dissolvenza vengono fuori i pesci che è un effetto bellissimo che possiamo corredare scrivendo quindi nel Glide Show possiamo aggiungere di nuovo un testo anzi di più nel Glide Show possiamo aggiungere più cose guardate possiamo aggiungere foto testo un pulsante video sto video lo lasciamo perdere perché non ci entra proprio niente allora creiamo una foto un video story a landing page a scorrimento quando arriviamo alla fine secondo me possiamo aggiungere tranquillamente una foto per esempio possiamo aggiungere facciamo finta di trovare ecco questo va bene possiamo aggiungere questa e qui una didascalia e se vogliamo qui sotto anche un testo rifacciamo rivediamo tutto è bellissimo ah vediamo l'anteprima pulsante di anteprima così spariscono tutti i bottoncini pulsante di anteprima caricamento della pagina storia l'autore fantastico qui abbiamo un testo quindi si interrompe la narrazione scrivere qui siccome non abbiamo scritto niente spariscono qui gli affari là per i posti per scrivere poi guardate dissolvenza guardate ancora continua ad andare sotto dissolvenza e poi compare la tartaruga con la sua spiegazione è fantastico no questo altro che powerpoint super poetico certo questo è un modo di rappresentare le cose altro che powerpoint buttate via powerpoint oppure lo usate come vi ho insegnato io per creare dei modelli ma per il resto è finita l'epoca delle presentazioni o delle narrazioni con le slide basta slide abbiamo bisogno di storie da raccontare con belle immagini e bei racconti e poi niente poi vi scoprite questa applicazione come funziona è molto semplice giocate la condivisione è la stessa pubblica condividi il collegamento quindi avete il link distribuite il link e tutti possono vedere la vostra creazione e se la modificate il link rimane lo stesso va bene abbiamo due minuti di anticipo sulla tabella di marcia vi piace? volete dire qualcosa? ah c'è una cosa che vi posso dire ancora guardate qui sulla destra i temi temi potete cambiare il tema per esempio vedete che qui c'è uno spazio bianco tra una fotografia e l'altra potete usare questo tema possiamo usare mi suonava il telefono allora possiamo usare questo tema oppure questo allora cambia il modo con cui non avete tante scelte perché? perché questa applicazione è fatta per creare delle buone cose e quindi se foste voi a pasticciare sul tema come eccetera dato che non conoscete almeno quelli di voi che non conoscono i principi della comunicazione visuale farebbero solo dei pasticci e poi per esempio gli studenti perderebbero un sacco di tempo a mettere qui le barrette le righette invece devi scegliere scegli a me piace per esempio netcap per la fotografia ma anche quello di prima era molto bello con questo anche bianco col passaggio bianco crisp crisp è molto elegante è il primo che abbiamo utilizzato d'accordo? Poi dovete lavorare poi ve la scoprite ma è molto semplice da usare può essere utilizzata anche come presentazione infatti al posto dell'anteprima avete la presentazione allora occupa tutto lo schermo quindi anche del videoproiettore eccetera e funziona così molto più bello di qualsiasi slide poi potete spostare vedete questa tartaruga che ho infilato qua se voi acchiappate questa finestra potete collocarla al centro oppure al fianco a secondo al centro non va bene di solito perché si sovrappone alla parte centrale della fotografia che si suppone sia quella che dovete vedere quindi o al lato sinistro o al lato destro va bene vediamo l'ultimo argomento comincio a essere un po' stanco anch'io devo dire ho parlato quasi ininterrottamente tutto il tempo spark page funziona nello stesso identico modo qui guardate traete ispirazione dalle vostre storie poi tasto più e a questo punto vedete che è uguale è identico non cambia niente i pulsantini e tutto il resto uguale cambia solo l'inizio ovvero avvio per il resto è identico ci siete avete domande osservazioni no ero solo presa dalla creazione mi ero un attimo rapita cosa non ho capito ho detto ero presa dalla creazione ero rapita da questa dotezza hai ripresa prendono ste cose prendono i creativi di grazie a tutti